Buonasera e bentornati alla fumetteria in tv. Questa sera per iniziare vorrei proporvi le storie, le disavventure di un personaggio che ha conquistato tutta l'Asia, che da noi è ancora poco conosciuto, ma che sono sicura che presto diventerà famosissimo anche qui, ed è lo Sfigatto. Lo Sfigatto, l'abbiamo già proposto col volume 1, è uscito il volume 2 delle disavventure di questo personaggio che non si arrende mai, ma fallisce sempre. Per fortuna i suoi fallimenti non sono catastrofici, per fortuna il fatto che il suo amichetto coniglio invece vinca sempre non lo abbatte, lui insiste, quindi si cimenta con una serie di attività varie e svariate, dallo sport alla cucina, al viaggio, alla fotografia, insomma cerca veramente di fare qualunque cosa e ogni volta fallisce. Ecco, il senso dell'umorismo di queste strisce comiche è un po' diverso da quello a cui siamo abituati in occidente, però con un po' di allenamento, anche le battute, le gag che possono risultare un pochino più ostiche per noi diventano molto divertenti, soprattutto questo personaggio è veramente simpatico, paffuto, divertente, con una serie di espressioni alle quali manga e anime ci hanno abituato, a volte esagerate, eccessive, ma è veramente un personaggio simpatico. Le strisce sono mute, per lo più, comunque ci sono poche scritte, tutte ovviamente tradotte in italiano, quindi sono godibilissime in qualunque momento, da chiunque, dai bambini agli adulti, e un'altra cosa curiosa che le strisce, ovviamente essendo giapponesi non sono in orizzontale come quelle alle quali siamo abituati noi, pensiamo, che so, Calvin e Hobbes o i Peanuts, ma sono in verticale, quindi anche questa dà un senso grafico un po' diverso alle pagine. È molto molto carino, è una pubblicazione della Star Comics, questa linea denominata Wasabi, che raccoglie proprio questo tipo di storie che arrivano dal Giappone e che per noi sono veramente delle novità. Quindi lo sfigatto fallisce ancora per imparare a prendere bene anche i fallimenti. Adesso vediamo che cosa ci presenta la nostra Cristina Piazza, da Crazy Comics and Games di Varese. Buonasera Cristina. Buonasera, buonasera Lara e benvenuti alla fumetteria in tv. Anche stasera porto dei fumetti splendidi, bellissimi e inizio subito da Children of the Sea di Daisuke Igarashi. È un manga e per questo dobbiamo prepararci con il giusto abbigliamento. Questa è una storia veramente, veramente surreale, meravigliosa. È la storia di due ragazzi, due presumibilmente fratelli, che sono stati allevati nel mare. Questi due ragazzi sono appunto due bambini del mare, non sono gli unici sulla terra, ma sono gli unici in questa storia, in questo momento. Loro vivono protetti, nel senso che sono due ragazzi liberi, ma che hanno la loro base, la loro casa, in un acquario, proprio perché riescono lì a trovare un ambiente consono alla loro fisicità, perché la loro pelle è mutata nel tempo. Loro sono due ragazzi apparentemente normalissimi, però non possono stare al sole, hanno le necessità che hanno alcuni pesci. Chiaramente per la loro condizione sono anche soli da un certo punto di vista. e durante il loro percorso incontrano Ruka, una ragazza figlia di un operatore dell'acquario, di uno studioso dell'acquario, che anche lei fatica a trovare delle amicizie. Perché? Perché è una ragazza molto sola, perché si sente questo richiamo del mare. Inizia così la loro avventura, la loro amicizia, che si stringe pian pianino e che fa luce su, pian piano, alcuni misteri che avvolgono sia questi due ragazzi che Ruka, che ha la possibilità, diciamo, di scorgere, di vedere quello che sono i misteri del mare. Il comportamento dei pesci, che si sta facendo strano, pesci che si arenano, grandi mammiferi che li seguono. Insomma, il tratto è meraviglioso, ha vinto numerosi premi ed è stato anche nominato appunto per premi molto prestigiosi in Giappone. È una lettura bella, interessante, che consiglio a tutti, soprattutto a quelle persone a cui piace comunque leggere davvero qualcosa di sopra le righe, molto molto interessante. Ma passiamo ad un'altra lettura. Ho portato Frammenti di caos di Tanino Liberatore, Tanino Liberatore definito da Frank Zappa, il Michelangelo italiano, di cui abbiamo parlato diverse volte perché è uno dei miei autori preferiti. In questa raccolta troviamo tantissime storie brevi, scritte, disegnate tra gli anni 70 e gli anni 80, che hanno poi fatto parte di alcune delle riviste cult più importanti, come Frigider, come Il Male, delle cose a cui io sono particolarmente affezionata. Questa serie di racconti brevi spazia in tutti gli ambiti. È un'opera d'arte perché Liberatore è veramente un grandissimo artista e i contenuti di queste storie sono molto forti. Alcune sono velocissime, sono degli spot che ti colpiscono proprio come un pugno nello stomaco e altre invece sono un pochino più estese. Ma di base c'è appunto questa forza narrativa importante, meravigliosa. Questo volume è delle edizioni Comic Con e raccoglie tantissime storie che non erano mai state stampate in Italia prima. Quindi io lo consiglio assolutamente, ovviamente ad un pubblico adulto, perché i contenuti sono abbastanza strong per questo volume. Ma se siete cultori di questo genere, se avete letto Frigidero, Il Male, se leggevate fumetti anche in un'età preistorica, in cui li leggevo anch'io appunto, potete assolutamente cercare questo volume. Meraviglioso, prezioso, bello, leggetelo. Grazie Cristina e per concludere vi ho portato qualcosa di veramente spettacolare. Non si tratta di fumetti, ma di accessori per il più famoso dei giochi di ruolo del mondo, Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons, come sapete, si può giocare anche semplicemente solo con una matita o un foglio di carta, ma diventa molto più ricco quando si aggiungono delle cose meravigliose come queste miniature. Queste miniature sono della Whiskits. Qualche anno fa erano uscite delle miniature già predipinte. In questo caso abbiamo invece delle miniature che vanno dipinte. Quindi c'è anche questo divertimento aggiunto, la possibilità di collezionarli, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono delle miniature che, a differenza di quelle alle quali siamo abituati noi giocatori di ruolo o wargamers del passato, hanno già una prima base di pittura, quindi si può iniziare subito a pitturare, non c'è bisogno di dare il primer. Sono in plastica dura, una plastica molto dura, quindi non si piegano come succedeva nelle vecchie miniature, e sono molto molto dettagliate. Sono più in HD. Insieme a queste sono uscite anche le carte, carte incantesimo, carte mostro, delle carte che ci aiutano nel gioco. Infatti quando noi impariamo, per esempio, degli incantesimi, adesso qua ho portato quelli del bardo, ma ci sono chiaramente di tutte le classi che hanno questa abilità, quando noi lanciamo l'incantesimo, chiaramente dobbiamo impararlo, sapere quali sono i suoi valori. Ecco, con queste carte ci facilitiamo moltissimo il compito, perché abbiamo la possibilità di utilizzarle per lanciare l'incantesimo. Sappiamo esattamente quanti ne abbiamo lanciati ogni giorno, ogni seduta. ci sono delle carte vuote che possiamo compilare con i nostri dati, i nostri incantesimi, sono veramente molto comode e vanno ad arricchire quello che già è un gioco estremamente ricco e valido. Quindi invitandovi a giocare di ruolo al più presto, io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana, giovedì alle 21 su Rete55 con la fumetteria in tv. Buona serata! Buona serata! Buona serata!